A Dubai esiste un grattacielo dove la simmetria e la regolarità delle forme geometriche non sono proprio di casa. La torre dei Opus, altezza 93 metri, estensione oltre 84.000 metri quadri, composizione, pannelli piatti sui lati esterni e turdi al centro, un doppia pelle di vetro performante, a tratti temperato, con filtro per i raggi UV. Segni particolari? In base al punto da cui lo si guarda, l'edificio che ospita un hotel, vari offici, ristoranti e bar esclusivi appare in due modi diversi. Da un lato, a colpo d'occhio, si presenta come una struttura squadrata, con un ampio e insolito spazio irregolare vuoto al centro. Dall'altro appaiono due torri imponenti che si congiungono a 71 metri da terra grazie a un ponte, ovviamente asimmetrico. Lo scopo del progetto, dell'architetta decostruttivista Zahra Doud, che ne ha curato anche gli interni, è esplorare le infinite possibilità della geometria parametrica, che qui si scatenano in un design avveneristico e assieme sofisticato, supportato in fase di elaborazione da importanti software. Un'ultima curiosità, di giorno la facciata riflette il cielo e gli edifici circostanti, di notte è illuminato da LED, gestibili singolarmente all'interno di ciascun pannello di vetro. Sensori regolano inoltre automaticamente la ventilazione e l'illuminazione dell'intero edificio, in base a quanti lo occupano. Da Dubai è tutto, seguiteci ancora per scoprire con noi nuovi e bellissimi edifici in giro per il mondo.